Per i più appassionati, basti sapere che la superficie è la stessa utilizzata per i tornei degli Open Stati Uniti. Una certezza per quanto riguarda i materiali e la velocità del campo da gioco. Il Circolo Tennis L'Aquila Peppe Verna inaugura, al termine di una stagione positiva, sotto il profilo dei risultati sportivi, due nuovi campi da gioco al coperto, al termine di un intervento cofinanziato con la Fondazione Carispac. Rinnovata con il Comune, anche la Convenzione per la gestione degli impianti, che oltre a fungere da centro sportivo, svolgono anche un importante ruolo sotto il profilo aggregativo per la città capoluogo, alla continua ricerca e gli spazi per la socialità. Sì, due nuovi campi e non solo. Oggi è un momento di auguri e un momento anche di inaugurazioni ed è bello quando si riesce proprio in questo momento per la città dell'Aquila, in un posto così centrale, per far vedere che l'Aquila sta ripartendo anche da queste cose, che possono sembrare un po' minoritarie rispetto alla grande mole della ricostruzione, ma in fondo non lo sono, a nostro avviso, perché qui con la socialità, con lo sport, con questo collante proprio, con il centro dell'Aquila che si può ripartire. Siamo riusciti, grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio, con un progetto cofinanziato anche dal nostro Circolo Peppe Verna, a realizzare questa nuova struttura, che è uno dei primi importanti elementi di rinnovamento del Circolo. Si è iniziato da dopo il terremoto, ma si sta proseguendo e oggi questa struttura viene inaugurata con tutte le condizioni anche a posto a livello burocratico. L'altra cosa importante con la presenza del nostro sindaco e delle autorità comunali, anche la firma della Convenzione, un altro atto determinante con tanta fatica ottenuto.